Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, al nord, tempo uggioso con deboli piogge. Al centro, soleggiato con poche nu. Al sud, del tempo con cieli sereni. In serata, al nord, cieli grigi ma senza piogge significative. Al centro, nubi irregolari con locali acquazzoni. Al sud, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, al nord, cieli grigi con scroci di piogge intermittenti. Al centro, nubi irregolari con temporali. Al sud, nubi irregolari con locali acquazzoni. Nel pomeriggio, al nord, cieli grigi con piogge temporali. Al centro, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Al sud, nubi irregolari con temporali anche intensi. Attenzione, possibili grandinate.